Grazie a tutti, in effetti lo attendevo dal Punticello che è il classico arrivo dei nostri ospiti Ciao Cine, è sempre un piacere averti qui con noi Pomeriggio, quindi dalle 15.30 partiamo ufficialmente con questa iniziativa dopodiché l'assaggio viene garantito a tutte le persone che rimarranno qui con noi fino all'ultimo, fino allo stremo, tutto questo nell'arco di... Allora io mi sono avvicinato da questa parte semplicemente perché qui a fianco abbiamo il primo cittadino della città La nostra appezionatissima amica, prima di tutto e poi interprete e naturalmente a tutto lo staff e ai ragazzi del Brindisi quindi davvero un grazie di cuore a tutti per la buona riuscita anche quest'anno di questa iniziativa che vede tumacchio nel mondo, quindi grazie di cuore Perfetto, questo è il saluto del sindaco della città anche voi se volete spostarvi leggermente perché se poi vi seguono gatti e cani non vi preoccupate che è normale, ve lo posso garantire? Volevo chiedere... ...per raffreddare e riportare a cottura questa villa sono tutti particolari molto importanti che vi consentono di... C'erano le persone che stanno assaggiando e mi fa molto piacere che vengano apprezzati questi piatti particolari insomma queste novità, bisogna essere aperti alle nuove idee Allora state assaggiando caro pubblico quello che è il risultato delle ricette che ci hanno proposto i nostri cuochi giapponesi oggi quindi un'anguilla nella salsa, aiutami santo tu che la ricordi Il 31 ottobre, il 31 ottobre, il 31 ottobre, il 31 ottobre, il 31 ottobre Io do un pezzo che non... perché questi ragazzi giapponesi ormai da diverso tempo si stanno praticando per...